no sapete ragazzi quella è la questione che cioè o si fa così con ogni modello che si vede allora non si vive più voglio dire allora ogni compagno di studi potrebbe diventare un domani un competitor o si è pronti raggiarsi i coltelli proprio così per per partito preso oppure si cerca di capire l'altra persona io fede invece sono molto affezionato proprio perché prima di vederlo come altro modello l'ho visto come ragazzo con le proprie fragilità la propria personalità ed è il motivo per cui gli sono voluto stare soprattutto all'inizio ancora più vicino di molti altri ragazzi e io lo capisco soprattutto nei momenti di sconforto che ho ultimamente perché anch'io all'inizio soprattutto del percorso ho avuto qualche defiance in cui mi sentivo forse un po' solo un po' solo